Il calciomercato entra nelle sue ore più frenetiche e cruciali. C'è tempo fino alle 20 di domani per definire operazioni in entrate e in uscita. Il Foggia è obbligato a muoversi per assicurare a Cudini quanto necessita per centrare quanto meno l'obiettivo salvezza. E saranno ore delicate in cui servirà a condurre in porto operazioni mirate, perché la classifica lo spiega chiaramente. Non si potrà sbagliare per centrare l'obiettivo salvezza, che resta al momento la priorità. Servirà gente pronta ed in grado di alzare il tasso qualitativo e di sostanza del gruppo. Ieri intanto il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Tenko Rang, giunto in prestito dalla cremonese Via Lecco. Si aggiunge ai calciatori già messi sotto contratto nei giorni scorsi, ma non basta perché sono ancora diversi i vuoti da colmare nella rosa rossonera. Serve un altro attaccante che il Foggia ha individuato in Luca Gagliano, 23 anni il prossimo luglio. Scuola Cagliari, club con il quale ha debuttato nella massima serie mettendo anche il suo zampino, realizzando il primo dei due gol che consentirono al Cagliari di battere la Juventus un paio di anni fa. Gagliano arriva dal Potenza, dove in questa stagione ha totalizzato 17 presenze, tra cui la stragrande maggioranza Spezzoni, ed un gol. Chiuso anche il doppio affare con l'Alessandria. Dal Piemonte arriva l'attaccante esterno Mannè e il difensore Ercolani. Sempre per la retroguardia, il Foggia è sulle tracce del difensore della casertana Soprano. Entro domani sera andranno definite le ultime operazioni, in entrata come in uscita. Sullo sfondo c'è intanto il Catania e per Cudini arrivano buone notizie dall'infermeria. Meno grave del previsto l'infortunio occorso a Carillo, uscito malconcio nel derby col Francavilla. Il difensore dovrebbe essere a disposizione già venerdì nella sfida interna con i siciliani.